Il ritorno di Avery lirato La tua faccia Ti arrabbi e fai quella cosa con le sopracciglia, carina È mia madre, mi tormenta da anni perché torni a Boston e assuma un ruolo apicale nella fondazione Harper Avery E ora spinge di nuovo su quel tasto, spinge forte, molto forte Te ne vai? No, io lavoro qui Hai preparato la Preston per la rinoplastica? È stata rimandata, Lia dice che Anta sta cancellando gli interventi non urgenti Credevo che per questo l'irato Avery... È la quinta volta questa settimana Credevo che non l'avrei mai detto, ma mia madre non ha tutti i torti